È un incontro molto importante perché è un incontro di metodo e di merito. Di metodo nel senso che il rapporto che la Regione Piemonte vuole avere con l'Unione Italiana Cechi e i povedenti del Piemonte, con il suo Presidente, vuole essere un rapporto continuativo. E dal momento che le tematiche trattate sono tematiche per loro natura trasversali ai vari assessorati, abbiamo individuato e raccolto la piena disponibilità dell'assessore Maurizio Marrone, che ha già la Delegal Welfare, ma a essere l'interfaccia dell'Unione Cechi-Piemontesi con tutte le attività che il Governo regionale dovrà porre in essere. Proprio questo per facilitare rapporti più immediati e rapporti più diretti. Poi abbiamo analizzato il merito. Il merito vuol dire una legge regionale che sostiene le associazioni che rappresentano portatori e portatrici di disabilità e che andrebbe rivista, andrebbe aggiornata, modernizzata e su questo potremo iniziare a ragionare insieme. Ma soprattutto noi abbiamo voluto creare le basi per una progettualità con l'Associazione Piemontese dei Cechi che ci permetta di andare oltre al supporto ordinario che finanzia le attività altrettanto ordinarie dell'Associazione, ordinarie ma comunque importanti e imprescindibili, per fare una progettualità nuova, una progettualità triennale che la Regione si impegna a finanziare in aggiunta al contributo ordinario. In più abbiamo verificato direttamente con la Direzione Generale della Sanità Piemontese quello che è l'effettiva spesa per i centri di riabilitazione visiva che ci sono oggi in Piemonte. Perché rispetto al passato giustamente viene segnalato dall'Unione dei Cechi del Piemonte che questi fondi un tempo avevano una identità ben precisa, una quantificazione ben precisa che li vincolava, oggi invece sono all'interno del fondo indistinto della sanità e questo rischia di non dare le sufficienti garanzie che vengano spesi davvero per la loro destinazione. Allora abbiamo chiesto al Direttore Minola di produrci una relazione sul 2022 in modo da avere la certezza e la contezza piena dell'effettiva destinazione di queste risorse, ma poi dal 2023 ritorneremo ad individuarle e quindi a quantificarle con precisione in modo che tutti si sentano tutelati dal fatto che su questo tipo di attività si continua ad investire. Sicuramente il Presidente ha affrontato i temi più importanti, però abbiamo valutato insieme che è necessario anche allargare l'ambito territoriale di competenza e di presenza nelle province fino ad ora scoperte dei centri di riabilitazione visiva, per cui l'importo di fondi regionali che abbiamo riservato nell'ultima variazione di bilancio proprio per finanziare le sperimentazioni dell'integrazione sociosanitaria nelle case della salute piemontesi, vogliamo che siano utilizzate anche per allargare questo servizio e renderlo più capillare nei territori che fino adesso ne sono stati scoperti e sprovvisti. Abbiamo sempre grazie alla mediazione del Presidente Cirio anche già individuato l'opportunità di incontrare insieme all'Unione Cechi l'Ufficio Scolastico Regionale proprio per affrontare tutte le necessità e le urgenze che riguardano il mondo dell'istruzione, quindi gli insegnanti di sostegno, l'accessibilità delle strutture, tutte le condizioni che devono andare a garantire anche agli studenti e le studentesse non vedenti, povedenti, la piena accessibilità alla scuola e al percorso formativo. Oggi è stato un incontro importante, abbiamo incontrato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'Assessore al Welfar Maurizio Marrone. Abbiamo rappresentato e illustrato la nostra realtà associativa su tutto il territorio piemontese, abbiamo ricevuto già delle risposte e contiamo di avere veramente un dialogo costruttivo e continuativo con la Regione Piemonte. Dal canto nostro ci promettiamo di offrire tutto il nostro supporto in termini di esperienza e competenza per tutta la cittadinanza piemontese.